Io non so come giustificare ringraziandomi, questo concorde e commovente segno di solidarietà perché quando la mia storia è molto strana, pian piano la verrete a conoscere, ma comunque io sono qui sulla sedia perché ho un mal di schiena feroce, dovuto a un mal di schiena che mi parte dai molto lontano e cioè da quando mi hanno dovuto togliere il fatto che si era martirizzato proprio nell'ospedale in cui mi avevano portato. La mia è una storia molto semplice, molto umana ma in definitiva anche molto particolare e sorprende. E' una cosa molto curiosa perché avere qui persone che ascolta e parlare con cui parteci percepiscono i sentimenti molto particolari possono in qualche modo far parte di tutto il mio discorso. perché veramente anche questa coincidenza, questa possibilità di parlare è un grazie in attena che è un qualche cosa che sotto certi versi che fa di tutto il mio discorso. Io vi ringrazio di essere qui attorno a noi, servo e possibilità. che adesso purtroppo con gli amici che mi hanno sempre aiutato direttamente il nostro programma che ho scontato a Roma, come abbiamo introdurato a lavorare insieme, a tutti i forti gli altri, a tutti i nostri altri, a tutti i nostri, a tutti i nostri, a tutti i nostri. Grazie.